Belen Rodriguez, assurdo sospetto sulla figlia. Antonino Spinalbese dice basta Belen Rodriguez, spunta un'assurda ipotesi su sua figlia. Ciò che è stato detto ha dell'incredibile Antonino Spinalbese, subito dopo essere uscito dalla casa del grande fratello Vip, è tornato in possesso dei suoi profili social pubblicando quotidianamente post sulla sua vita quotidiana Grazie a tutti La sua risposta è dai corniciare Come detto precedentemente l'ex compagno di Belen Rodriguez, tra i tanti commenti sotto il suddetto suo post su Instagram, si è soffermato proprio su quello in cui è stata fatta una teoria del tutto assurda su sua figlia Luna Marie In questa occasione l'ex GF no ha fatto presente alla donna che ha scritto questa assurdità che non è capace neppure a fare la spesa online, figuriamoci se può acquistare gli ovociti Signora Maria, non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare, io vociti di Tatiana Insomma l'ex della conduttrice delle iene, la quale continua ad essere al centro del gossip, ha messo a tacere in poche parole la signora che ha avanzato questa ipotesi su sua figlia Da dove nasce questa teoria? La clamorosa rivelazione di Tatiana In tanti si staranno chiedendo da dove nasca questa assurda teoria sulla figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalvese In pratica tutto è nato su TikTok quando una donna che si chiama Tatiana ha rivelato di essere la vera madre biologica di Luna Marie Sono Tatiana, sono la madre biologica e legittima di Luna Marie Ma non è finita qua perché questa donna è anche arrivata ad ipotizzare che la conduttrice delle iene non sarebbe neppure una donna biologica Ha poi tirato in mezzo medici e politici per avvalorare queste sue tesi fantasiose Ovviamente nessuno le ha mai creduto, o quasi